Siamo arrivati a due mesi, quando abbiamo chiuso a fare due mesi la situazione è vera di crisi. Sì, quando abbiamo ascoltato le crisi, non abbiamo... E... ...di ricavamo ancora un'altra settimana, mi chiamo di farà a casa, no? Ma poi, invece, per un certo giocatore, che abbiamo chiamato questo giusto, cosa, e tutto. Quando abbiamo scontato, abbiamo visto una crisi di ansia, una crisi di nepataco, e poi abbiamo finito la terapia, adesso, con la montura che si vuole. Abbiamo dovuto realizzare il comacterino, il comacterino, il comacterino, e poi gli altri giorni, ci sono delle... non respirate. Abbiamo visto una crisi di ansia, adattazione... ...deguiamo di... ...deguiamo di... ...deguiamo di... ...deguiamo di... ...quindi la cosa ci circonda, che sia uscito al parco e... ...como quando non... ...non si lo dice di... ...non si è comprenata, ...quindi vuono fare le mesi, ...remmo fare le mie domeniche. Allora, siamo riposati, ...è anche in mezzo. Grazie a tutti.